Ed eccoci tornati in diretta, voglio subito salutare e ringraziare le nostre due ospiti che, più che ospiti, io direi sono ormai parte integrante del nostro essere giornalisti, della nostra redazione, direi più in generale, Maria Stella Alemano e Anna Paola Biceglia che avete visto nel corso del programma, il cui promo è appena andato in onda, appunto dedicato alla regola della sostenibilità della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno e bentrovateni entrambe. Buongiorno e grazie perché ci fate sentire parte di questa famiglia di Padre Pio TV. Grazie a voi, era doveroso parlare con voi di questo importante appuntamento che ci apprestiamo a vivere, lo abbiamo detto all'inizio della nostra puntata, le settimane sociali dei cattolici in Italia che poi scopriremo essere un'aggiunta tra virgolette postuma al titolo originario. Questo è un appuntamento importante, vedrà la presenza di Papa Francesco e del Presidente Mattarella a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimi, siamo giunti alla cinquantesima edizione. E dunque, Maria Stella, partiamo con te per spiegare il senso e il significato di queste settimane sociali dei cattolici in Italia. Sì, le settimane sociali dei cattolici in Italia, appunto come dicevi tu, quest'anno hanno cambiato un attimo il titolo perché fino al 2021, che era la 49esima edizione, si chiamavano settimane sociali dei cattolici italiani. Invece quest'anno la cinquantesima edizione settimane sociali dei cattolici in Italia. Cosa sono? Sono dei convegni, delle riunioni in cui i cattolici spiegano qual è il senso della loro presenza nella società civile. Quindi quali sono anche gli apporti, i contributi che loro possono dare nella società civile. Nascono nel 1907, Giuseppe Tognolo sull'onda appunto della Rerum Novarum promosse questi incontri. Da allora si sono susseguiti, siamo arrivati alla cinquantesima edizione appunto in varie città simbolo. Ci sono stati degli stop sicuramente, uno dovuto alla prima guerra mondiale, un altro dovuto alla presenza al fascismo e alle azioni repressive di Mussolini. Però adesso siamo appunto, eccola qui, la reggia ci manda in onda quella, la cinquantesima al cuore della democrazia a Trieste. Ogni volta si scelgono delle città simbolo, no? E infatti quest'anno, proprio perché Trieste, le settimane sociali si chiamano settimane sociali dei cattolici in Italia. Non solo dei cattolici italiani, ma di tutte le persone di buona volontà che si riconoscono e vogliono dare un contributo. Proprio perché Trieste è una città crocevia, un ponte, no? C'è il porto, è aperta all'est. Ma poi in Italia sempre di più sono la presenza di persone che arrivano, o arrivano per migrazione, o arrivano per lavoro, o arrivano... Anche queste persone, a queste persone la Chiesa Cattolica, proprio perché è cattolica, vuole dare voce. E quindi ci saranno appunto dal 3 al 7 luglio, come dicevi tu, sarà un grande evento della Chiesa italiana. Perché farà vedere come i cattolici hanno qualcosa da dire alla società. Non sono soltanto persone che vivono la loro fede in maniera intimistica, ma sono persone che comunque riescono a riportare i valori del Vangelo, i valori del Cristianesimo all'interno della società. E come si suole fare, ecco, di solito, anche per le grandi occasioni? Grandi occasioni, come dire, richiedono grandi tematiche. Perché al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro è un titolo più che eloquente per questa cinquantesima edizione. Perché stiamo vivendo, lo abbiamo anche ascoltato prima dagli aggiornamenti, un periodo cruciale, fondamentale per la nostra storia politica e democratica. Non solo del nostro Paese, ma più in generale dell'Europa. Perché il tema della partecipazione è di estrema attualità rispetto anche a quanto abbiamo vissuto nelle ultime tornate elettorali. L'ultima, davvero, dove l'astenzione, quella relativa al rinnovo del Parlamento europeo, davvero l'ha fatta da padrone, toccando dei numeri record. Allora, Maria Stella, noi proviamo a chiederci quale può e deve essere la partecipazione, anche rinnovata, in una modalità del tutto nuova, rispetto a quella a cui siamo abituati, dei cattolici, nell'ambito della vita sociale, delle città, della politica in generale. Allora, sicuramente la partecipazione è un po', diciamo, la spia della democrazia, no? Se non si partecipa, sicuramente non c'è democrazia. Democrazia vuol dire governo del popolo, ma se il popolo non c'è, come governano in pochi, no? E quindi questo, come dicevi tu, ci lascia un po' spiazzati rispetto a quello che stiamo vivendo, perché in realtà viviamo una crisi, una crisi che si declina in tante sfaccettature, come dice il documento preparatorio di queste settimane sociali, no? E' una crisi di natura sociale, è una crisi di natura climatica, è una crisi di natura geopolitica, perché gli equilibri che pensavamo ci fossero non ci sono più, vediamo che saltano in continuazione. E' una crisi migratoria, perché vediamo tante persone che arrivano e vanno nel nostro paese e tutte queste crisi minano la partecipazione, cioè portano di fatto ad avere una sorta di individualismo, cioè non ce lo possiamo negare, no? Assolutamente. Siamo chiusi, tendiamo ad essere chiusi, a farci, come si suol dire, i fatti nostri, ad essere chiusi in una bolla, una bolla che ci porta a guardare i nostri piccoli interessi, e sì, ma stanza miopi, no? E questo però deve essere rivoltato, no? Questo tema va insieme un po' al tema del sinodo, no? Cioè, in fondo è tutto un unico filo rosso che lega questi anni della Chiesa Cattolica in Italia. Papa Francesco sta tenendo, se noi guardiamo bene tutto quello che fa, sta tenendo un unico filo, un unico filone, no? Perché? Perché la partecipazione significa andare insieme, significa sentirsi parte, non significa... è un fatto non soltanto attivo di partecipazione, ma è anche un fatto culturale, spirituale, sapere che io posso fare qualcosa, che io posso dare un contributo. E allora, di fronte a questa crisi, pur piuttosto che fermarsi, i cattolici si rilanciano. Ecco cosa sono le settimane sociali. Quindi lo sguardo rinnovato cos'è? E' uno sguardo sicuramente integrale, uno sguardo che tiene conto, che guarda la realtà e guarda anche tutti i semi di bene che ci sono, no? Diceva, dice Padre Hermes Ronchi sempre, c'è dell'oro in questo tempo strano. Anche in questo mondo così, che sembra così, in crisi, c'è dell'oro. Basta scovarlo, basta vederlo. I cattolici sono quelli che hanno, o dovrebbero avere la vista più allenata per scoprire questo, no? Quali sono questi segni? Ma sono diversi, no? Per esempio, un esempio, le donne che occupano sempre più posti, sia di leader che posti in campo politico, in campo del lavoro, ma anche i giovani, no? Se noi ci guardiamo attorno, e anche qui lo vedremo, l'esperienza della Laudato Si qui a San Giovanni, è un movimento di giovani, di persone che si impegnano per la sostenibilità, ma tante imprese sociali. Questi sono tutti semi di futuro, semi buoni, semi che devono essere coltivati, che sicuramente germinano. Da qui, secondo me, ma anche secondo quello che dice il documento, deve partire una partecipazione rinnovata. E tu hai citato proprio il documento preparatorio, che è stata un po' la traccia che in qualche maniera ha fatto da Firrugio a quelle che saranno poi le riflessioni che si andranno a sviluppare a Trieste. Allora, Anna Paola, vengo da te perché proprio dal documento preparatorio emerge questo invito ad avere occhi nuovi per leggere la democrazia. Allora, quello che vorrei chiederti è quale sguardo bisogna assumere per... Già, Maria Stella, insomma, qualche linea ce l'ha ben tracciata, ma quale sguardo bisogna avere anche dal punto di vista dei giovani per leggere queste nuove sfide a cui tutti siamo chiamati? Sì, sicuramente questo è un po' emerso dalle piccole esperienze che noi come gruppo di giovani stiamo facendo qui sul territorio. Uno sguardo che guarda dritto negli occhi della persona che tu hai di fronte. Perché non è solo uno sguardo occhio, ma ci piace dire che è anche uno sguardo orecchio, è uno sguardo che si fa ascolto. Ci rendiamo conto che le persone hanno davvero desiderio e bisogno di essere ascoltate nei loro bisogni, nelle loro necessità, ma anche nei loro desideri, nei loro ideali e da cui poi possono partire dei progetti e dei processi di democrazia attiva, di democrazia che si fa azione. Quindi sicuramente uno sguardo che ha cura dell'interlocutore, della persona che in quel momento la vita ti porta a incrociare nella tua strada. La persona, la realtà, quelle periferie sociali che in questo periodo sentiamo molto citare dal Papa. è uno sguardo di attenzione, uno sguardo che vuole farsi prossimo e che davvero si mette nei panni dell'altro. Perché sappiamo la regola d'oro di tutte le religioni, di tutti i popoli, fai all'altro quello che vuoi che venga fatto a te. E anche in negativo non fare all'altro quel male che tu non vuoi ricevere. Ecco, quindi nell'ottica di un'ecologia integrale indossa i panni dell'altro come il Papa spesso ci dice e anche nel messaggio di queste settimane sociali di quest'anno dice sporcatevi delle ferite dell'altro che è un segno fortissimo. è bello, è poetico, ma se lo concretizziamo, se lo portiamo nella realtà è davvero qualcosa di sconvolgente, qualcosa di scomodo ma che se riesci a farne esperienza e noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato davvero ti fa capire come l'altro ha un bisogno profondo di cambiare insieme a te il presente che tutti ascoltiamo, percepiamo, un po' sano, un po' marcio. Assolutamente. Quindi sì, sicuramente uno sguardo di cura, di attenzione, di ascolto ma anche di speranza, come diceva Maria Stella. Uno sguardo che non sia solo focalizzato, concentrato sugli aspetti negativi della società, della politica spesso dei giovani che vengono stigmatizzati come il male della società ma uno sguardo che sia anche coraggioso nel puntare, nel cercare, nello scovare nel focalizzarsi su quei piccoli semi, su quel bene, su quegli alberi che crescono senza fare rumore e che danno coraggio poi nell'azione, nell'agire, in un agire comunitario soprattutto. Sono sicuramente degli argomenti interessanti quelli che tu Anna Paola stai sollevando anche perché adesso dobbiamo fermarci per la pubblicità tra poco parleremo, penso, di una delle chiavi di volta non solo delle settimane sociali dei cattolici in Italia ma più in generale della nostra vita sociale che è il tema dell'educazione un tema dell'istruzione, un tema che è ritornato anche forte e prepotente alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto un po' protagonisti, ahimè, protagonisti negativo sicuramente alcuni ragazzi in Italia, il caso di Pescara uno su tutti per fare un esempio davvero di poche ore fa adesso però fermiamoci per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme alle nostre ospiti per parlare di queste tematiche così belle, così interessanti così importanti e continuiamo il nostro stare insieme mentre continuo a ringraziare le nostre ospiti Maria Stella e Anna Paola per essere qui con noi sono delle riflessioni importanti quelle che stiamo provando a condividere anche con voi cari amici perché le settimane sociali dei cattolici in Italia giunte alla cinquantesima edizione ci spingono a fare delle riflessioni profonde al cuore della democrazia come appunto recita il titolo stesso scelto per la prossima edizione che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimo e dunque dicevamo Anna Paola di questo aspetto educativo che è sicuramente fondamentale non solo diciamo a partire da questo appuntamento che ci apprestiamo a vivere ma più in generale all'interno della nostra vita sociale perché come dicevamo i recenti fatti di cronaca ci spingono in qualche maniera a rimettere al centro della nostra società quella che è un'educazione integrale ecco l'aggettivo integrale è fondamentale da questo punto di vista perché ha a che fare anche con l'ecologia voi ce l'avete spiegato davvero in maniera più che approfondita nel corso dei numerosi mesi in cui siete state con noi nel corso del programma dedicato al tema della sostenibilità allora Anna Paola come si può coinvolgere in qualche maniera non dico per evitare perché tante volte poi questi fatti di cronaca non si possono evitare sono delle cose che spuggono anche al nostro controllo però perlomeno porre un freno un argine minimo anche per far capire che esiste dell'altro oltre al male che gira nella nostra società nelle nostre città per far sentire anche più coinvolti i ragazzi nelle parrocchie, nelle comunità, nelle famiglie sì, come dicevi anche tu il Papa ci viene subito in soccorso facciamo sempre appiglio a lui perché lui parla proprio di questo approccio integrale anche nell'aspetto educativo che non si è mirato solamente al consegnare trasmettere un saper fare ma lui parla di tre vie la mente, il cuore e le mani quindi riuscire ad entrare nel mondo delle nuove generazioni non solamente pensando di dover trasmettere o quantomeno provare a consegnare senza nessun obbligo ma in maniera molto umile un saper fare teso alla formazione professionale delle persone, dei giovani che saranno i nuovi adulti per far andare avanti la società ma soprattutto puntare anche qui una volta ricorre la parola chiave sulla relazione sulle relazioni e quindi mettersi in ascolto dei giovani ma anche nelle scuole dei ragazzi, dei bambini nella comunità nelle comunità che si incontrano mettersi in ascolto provare a percepire il fatto che si sta di fronte ad una stessa umanità uguale alla propria non siamo di fronte a qualcosa di diverso l'altro sì è un'altra umanità ma con le nostre stesse componenti quindi anche con questa chiave possiamo diciamo improntare nuovi progetti noi ce ne siamo accorti quando siamo entrati nelle scuole nelle scuole con i gruppi anche giovanili nelle parrocchie dove siamo stati ospitati i ragazzi di questo hanno bisogno di qualcuno che si metta accanto e non su un piedistallo rispetto a sé e che sia pronto ad ascoltare ciò che loro hanno da dire ma senza anche giudizio senza paura dell'essere criticati perché così una persona si chiude e non ti svela il suo sé che può essere costruttivo in maniera reciproca e questo abbiamo riscoperto anche la bellezza di questo approccio del mettersi in ascolto dell'altro guardarlo senza preconcetti ecco anche questo nel rapporto nel discorso giovani adulti la disputa intergenerazionale anche questo riuscire a smontare un po' i nostri schemi per poter vedere l'altro come una nuova creatura da scoprire smantellare così tutti i sistemi mentali che ci portano poi appunto a questi fatti di cronaca che purtroppo diciamo che per sintetizzare potremmo dire l'espressione occhi negli occhi potrebbe essere guardarsi occhi negli occhi insomma potrebbe essere una espressione idonea ecco per aiutarci un po' a capire anche qualora ci dovesse essere un malessere da parte dei nostri giovani tu hai citato anche le attività della vostra comunità la comunità laudato sì mi ha molto colpito quando ad ottobre ci avete spiegato nel corso del convegno dedicato alla pace qui a San Giovanni Rotondo le tante attività anche a favore delle ragazze che purtroppo sono vittima di prostituzione insomma un'attività a 360 gradi integrale ritorna ancora una volta l'aggettivo potremmo dire giusto e allora vorrei chiederti per l'estate quali sono le attività che avete previsto anche per i ragazzi nel solco ovviamente della laudato sì e del movimento ovviamente di cui fate parte diciamo che l'estate è un momento favorevole molto favorevole che sprigiona un po' le energie delle varie comunità laudato sì proprio perché il creato ci viene un po' incontro noi nello specifico abbiamo organizzato anche per quest'estate dico anche perché siamo giunti inaspettatamente alla nostra terza edizione mi piace l'inaspettatamente sì perché sono tante sorprese alla terza edizione del trekking ecobiblico quindi un weekend proprio in mezzo alla natura a questo nostro amato Gargano lontani dalle città un momento una parentesi un momento di stacco dove ripercorriamo alcuni sentieri sul Gargano e nello stesso tempo approfittiamo della bellezza che ci circonda per ritrovare un po' noi stessi e la parte più intima di noi farlo in maniera comunitaria con gli altri facendoci anche guidare accompagnare ad alcune riflessioni bibliche che di volta in volta vengono create adattate forgiate proprio sulle situazioni ambientali che andremo a incontrare e questo sarà nel primo weekend di luglio poi avremo il tempo del creato che ogni anno appunto la chiesa propone e quest'anno il tema è proprio sperare e agire e come diceva Maria Stella il Papa ci tiene proprio a mantenere un filo pastorale per tutta la chiesa quindi ritorna questa speranza e questa azione concreta questo non solo parlare ma proprio agire fare qualcosa che si ricollega al tema delle settimane sociali in effetti vogliamo anche ricordare io purtroppo avrei voluto farvi una domanda sul messaggio che è stato appunto promulgato però purtroppo il tempo corre ci riserviamo una prossima occasione anche perché il primo settembre insomma è abbastanza lontano poi possiamo tranquillamente organizzarci spero agisci con il creato e quindi è il messaggio che Papa Francesco ha promulgato ieri relativamente a questa giornata così bella così importante per chiudere però Maria Stella Anna Paola ha citato il Gargano l'amato Gargano è una chiara citazione dell'arcivesco Padre Franco Moscone a me piace quella di Padre Pio ancora di più la cattedrale del creato perché penso che sia davvero come dire più che esplicativa rispetto alle bellezze di cui noi siamo custodi e responsabili e dunque Padre Franco ha scritto questo messaggio come ogni anno relativo all'accoglienza dei tanti turisti che affoleranno il nostro promontorio e vorrei commentare con te un breve passaggio che mi ha colpito e penso possa essere anche di riflessione vi auguro che durante il vostro soggiorno scrive l'arcivescovo possiate ritrovare o rinsaldare l'autentica gioia nell'intimo del vostro cuore scoprire la bellezza del creato che Dio ha abbondantemente riversato in questo nostro promontorio e trovare la vera pace da donare ai vostri cari agli amici e a quanti incontrerete nel vostro cammino capiamo allora che creato e pace sono un connubio inscindibile da questo punto di vista allora vorrei chiederti quale deve essere l'impegno per custodire il creato e custodire la pace allora sicuramente qui siamo molto testimoni qui sul Gargano siamo molto come dice anzi responsabili di questo connubio di mantenere questo connubio padre Franco lo sa bene perché ce lo rilancia sempre il Gargano è bellissimo attira tanti turisti che cosa dobbiamo fare noi da questa parte noi dobbiamo cercare di mantenerci dalla stessa è sempre un fatto educativo educare i giovani educare gli adulti educare tutte le generazioni a capire che ospitante cioè noi e ospiti siamo dalla stessa parte siamo dalla parte dello stupore cioè ci dobbiamo stupire della bellezza che è il creatore se ci crediamo ha seminato in questi luoghi perché lo stupore è la fonte della pace perché è la fonte della non sopraffazione se tu ti stupisci non puoi prendere perché se ti stupisci tu devi dare la possibilità all'altro di stupirsi quindi non puoi prendere non puoi arraffare non puoi avere questo atteggiamento predatorio questo dobbiamo imparare questo e poi dobbiamo secondo me fare una cosa molto importante sul Gargano cioè promuovere un turismo che non sia un turismo low cost appunto un turismo che tenda che sia spinto soltanto a portare a far arrivare gente qui no ma le persone che arrivano qui devono essere messe a contatto come dice padre Franco nel documento nel saluto messe a contatto con la bellezza ma con la santità di questi luoghi un'altra espressione che si addice a questo luogo è Gargano sacro è tutto sacro non è sacra la montagna di San Michele non è sacro San Giovanni Rotondo perché c'è Padre Pio qui questi luoghi sono sacri sono segnati dal passaggio di milioni di pellegrini negli anni che sono venuti qui a cercare pace hanno pregato hanno cioè sono luoghi sacri sono luoghi sacri quindi fare in modo che i turisti diventino un po' pellegrini cioè facciano questa esperienza di sacralità come? anche attraverso un turismo esperienziale adesso va di moda questa parola un turismo che faccia in modo che le persone entrino in contatto con le comunità e di nuovo e di nuovo il filo rosso entrino in contatto con le comunità facciano delle esperienze ci sono per esempio tante piccole esperienze tanti giovani che riprendono antiche tradizioni e le mettono a servizio di chi arriva qualche tempo fa c'è stata l'esperienza della transumanza oppure chi lavora sui trabucchi che riprende cioè questo questo genere e poi ultimo ma non ultimo un turismo lento perché il Gargano è fragilissimo e non possiamo dimenticarlo è un luogo fragilissimo per le sue caratteristiche ecologiche in senso stretto per le sue caratteristiche pedologiche è molto delicato quindi bisogna stare attenti a non alterare gli equilibri allora Maria Stella io ti ringrazio per aver fatto questa pubblicità meglio non si sarebbe potuto fare probabilmente al nostro Gargano un po' di campanilismo ogni tanto va bene per noi che siamo innamorati del nostro territorio ma sono convinto anche i nostri amici telespettatori che non mancano davvero di farci giungere anche il loro apprezzamento per le bellezze di cui noi siamo responsabili e custodi e io vi ringrazio davvero di cuore per essere state con noi ci rivedremo per commentare ci mettiamo d'accordo vediamo un po' per commentare il messaggio del Papa relativo alla giornata appunto di preghiera per la cura del creato grazie grazie di cuore grazie a voi davvero andiamo in pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi